Un rito antichissimo che fa parte del DNA della città di Foggia. La cattedrale ha accolto i fedeli nel giorno dedicato alla Madonna di Setteveli, protettrice del capoluogo Dauno. La Santa Messa è stata presieduta dall'arcivescovo Francesco Pio Tamburrino. Al centro dei festeggiamenti l'effigie dell'Icona Vetere, che risale all'anno 1062, quando ci fu il rinvenimento di un'antica immagine della Madonna, l'Icona Vetere appunto, da cui partì l'insediamento del primo nucleo abitativo dell'attuale città di Foggia, con la costruzione di un tempio sul luogo del ritrovamento della reliquia, destinato a diventare, con il passare dei secoli, la cattedrale. L'Icona della Madonna è la più antica mai ritrovata in Puglia. Secondo la tradizione, una seconda nascita mariana del capoluogo Dauno si verificò dopo il devastante terremoto del 1731 che distrusse completamente l'abitato. Le apparizioni della Vergine contribuirono a rafforzare il culto della Madonna dei Setteveli, dando ad esso una forte duratura caratteristica popolare. Nel giorno della festa religiosa, l'arcivescovo rivolge un pensiero alle famiglie foggiane, soprattutto a quelle che maggiormente stanno soffrendo a causa della crisi economica. Il mio appello, il mio invito a quello ad assumersi le proprie responsabilità, ognuno nel proprio compito e a dare il contributo massimo di solidarietà ai nostri fratelli, soprattutto a quelli più bisognosi, più emarginati, più in difficoltà. Perché allora la città può risorgere quando tutti insieme, tenendoci per mano, cammineremo verso il meteo e un futuro migliore.